Servizio civile? Lo faccio perché? Perché è un'esperienza bellissima e che ti arricchisce sia personalmente che professionalmente. Mi interessava fare un'esperienza formativa che mi approcciasse al mondo del lavoro e che fosse anche e soprattutto un'esperienza umana. Io lo faccio perché lo considero sia come crescita personale che professionale. Volevo mettere al servizio della mia comunità ciò che sapevo fare. Io ho scelto di fare servizio civile con dei ragazzi disabili perché penso che da loro ci sia molto da imparare, mi arricchiscono, loro imparano da me e penso che ci sia un confronto unico. Il servizio civile per me è un tipo di volontariato molto importante perché io ad esempio presso servizio in una scuola elementare e mi sono accorta che il nostro lavoro è veramente utile in quanto sia per la disorganizzazione o che comunque c'è sempre bisogno di persone coinvolte. Svolgo il servizio civile perché penso sia un'esperienza che mi aiuterà a crescere sia come persona che a livello lavorativo. Io mi occupo di persone con una disabilità e questo mi ha permesso di scoprire un mondo che fino ad ora non ero ancora riuscita a scoprire. Il servizio civile è stata un'esperienza nuova, innovativa sicuramente nella mia vita perché mi ha permesso di introdurmi all'interno di un nuovo mondo innanzitutto lavorativo e poi soprattutto un mondo che mi ha permesso di conoscere maggiormente il mio comune, tutto ciò che c'era attorno, quindi valorizzare le mie capacità e soprattutto acquisire nuove capacità. Io faccio il servizio civile come un qualcosa in più perché lavoro già 12 ore settimanali come educatrice e quindi lavoro presso il servizio civile in un asilo nido comunale e per me è un modo per imparare qualcosa a livello personale e spendibile anche in un futuro professionale.